Allora, la Regione sembra abbia ristorato chi è ripartito con l'eccellenza, però tutte le altre stanno aspettando. Com'è la situazione, Attilio? Ti lascio quasi carta bianca, perché insomma, avendo parato di calcio strutturato come azienda, in questa materia te la cavi bene. Guarda, io ti ringrazio di avermi dato questa possibilità, perché vorrei esprimere il mio pensiero anche ad altre società dilettantistiche. Non dico preoccupato, però vorrei che anche gli altri facessero un qualcosa di più. Non è semplice.